Le stelle di Azus Il lavoro vi dà qualche preoccupazione in più negli ultimi giorni, anche perché le spese sembrano in aumento e temete di non guadagnare abbastanza. Gemelli In amore dovete cercare di limitare la vostra permalosità. Non potete tormentare il partner solo perché si è permesso di muovervi una critica innocente. Cancro Siete sempre alla ricerca di qualcosa di stabile, solido e in questa giornata avrete l'opportunità di fare un progetto a lunga scadenza con il partner. Leone Sul lavoro avete troppi dubbi e non riuscite mai a prendere la decisione giusta, anzi, oggi agirete con troppa precipitazione. Va molto meglio in amore. Vergine Nelle storie di vecchia data serpeggerà un po' di malcontento, forse perché il partner mal sopporta i vostri scatti d'ira. Ci vuole prudenza sul lavoro. Bilancia Luna positiva per i rapporti familiari ma che emette un po' di confusione nelle questioni professionali perché sarete distratti e agirete con troppa leggerezza. Scorpione La forza vitale che sprigionate in questo momento contribuisce a creare intorno a voi un'atmosfera positiva. Dedicate la serata solo all'amore. Sagittario In amore riuscite a recuperare finalmente la serenità di cui avete bisogno grazie ad una situazione tornata stimolante all'interno della coppia. Capricorno Siate eccitati dalle conoscenze fatte ultimamente. Avete bisogno di comunicare e di invastire nuovi rapporti sociali. Buone occasioni per guadagnare. Acquario Acquario Sempre in primo piano con questo Marte che vi mette al centro dell'attenzione. Giornata ottima per le amicizie ma anche in amore sarete fortunati. Pesci La luna nel vostro segno vi regalerà una giornata spensierata. Sentite crescere l'ottimismo e la voglia di rischiare per raggiungere risultati importanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.